ciao qui fa sempre caldissimo sembra un po di scorotto però comunque parte questo che faccio il rumore dell'estate lo sentite il ventilatore è sul 3 sta girando va bene bene ho la finestra aperta così entra un po d'aria anche da lì vabbè comunque oggi sono andata in edicola ho girato un po di edicole e ho preso un po di pack e cose speciali di segreto fiabesco vabbè adesso ve lo dico l'avevo anche già scritto nel primo video ma mi sono resa conto che appunto è basato sulla storia di mutaro fantastico cioè me ne sono accorta dopo che avevo fatto il video e detto aspetta aspetta c'è una pesca c'è un cane c'è una scimmia e c'è un fagiano e io lì ok è il mutaro bene ottimo infatti in teoria dovrebbe esserci anche quello lì l'avevamo anche visto no l'orco qualcosa di orco perché andavano sull'isola appunto degli ioni a sconfiggerli vabbè comunque qua ci sono le team speciali con occhi doji me lo ricordo adesso vabbè e zoroark mi sembra e qui c'è vediamo c'è qualche altro pokemon no qui c'è questo qui che c'è sembra una cos'è sta cosa degli oggetti posseduti sembra sembra una bottiglietta di sa che è posseduta credo che anche questo faccia parte di qualche sono sicura credo che faccia parte sempre di qualche sempre forse sempre di momotaro perché allora anni fa io avevo a questo qua costano 11 euro 90 e ci sono due buste foglio di adesivi una carta con l'illustrazione pokemon esclusiva della mini scatola quindi ci sarà il zoroark ah ma che bello dietro c'è tutta l'illustrazione con allora che schifo la tappola vabbè c'è zoroark c'è non lo so poi c'è occhi doji c'è dio come si chiama quello lì insomma il fagiano e poi c'è sembra dusk noir però non sono sicura ah no ok ho capito questa è la scimmia ecco mi piacevo vabbè cercherò magari di trovare anche gli altri così probabilmente poi ci sarà l'illustrazione un po più grande per i cecati come come me vado ok allora prima apriamo questo qua di zoroark bello qui c'è sì infatti qui c'è il pezzettino di puzzle diciamo ah no c'è vabbè ok qui c'è lo sticker poi ci sono due ah ah la carta non la carta ok quindi questa qua non è la carta magari una carta con l'illustrazione infatti una carta ma una carta questa cioè va bene va bene va bene speravo la carta proprio va bene ok qua c'è sempre vabbè l'altro pezzo di di puzzle lo sticker e lo sticker e le due buste ok vabbè vediamo facciamo il cane e non mi ricordo come si chiama boh vabbè vabbè occhi d'oggi ehm energia elettro zorua handauer varum toxicrock falina ferrea ma sbaglio o è un'altra illustrazione boh va bene cassiopea sylveon la prima reversa è macchina zinixante la seconda è la seconda è raulet e no vabbè ma basta ma che è ma cos'è ma basta ma porca miseria ma quanti cacchio ne ho trovati di questi c'è ma anche l'altra volta ne avrò trovati almeno quattro cinque mamma mia vabbè va bene peccalante ma cos'è la maledizione di tapo bulu oh mio dio cioè c'è stato qualcuno che ne ha trovati così tanti quanti ne ho trovati io no domanda perché veramente assurdo vabbè ok allora energia elettro vivit varum zubat handauer clessidro energetica mochi soggiogante cos'è 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 mochi soggiogante ma che cacchio è boh va bene ok allora malamar la prima reversa copperagia la seconda joltico che carino oddio oh si si ah bellissimo peccalantex che non è una non è una fuori serie madonna che bello che bello oh catene dominanti ma che è è sul serio peccalantex peccalantex attivo e vabbè e vabbè varum arte segretalina arte segretalina macchinazionex ante curem la prima reverse stofful la seconda è ursa luna ursa luna luna cremisi boh e axorus anai bello l'ultima poi vabbè l'ultima l'ultima per il momento perché poi ho altre due altre due cose da da fare video energia fuoco zoro madonna anche questo qua vabbè cufant dusk axio galvantula oh che bello ma che bello bello mi piace questa illustrazione silveon mochi soggiogante la prima reverse stofful la seconda è iveltal e poi c'è zoroark vabbè dai dai carino qua vabbè solo questo però direi che direi non male non male direi non male ok vabbè alla prossima ciao ciao